buona giornata con l'almanacco barba nera oggi è l'11 settembre si ricordano i santi proto e giacinto il nome proto deriva dal greco protos e significa primo principale capo mentre giacinto viene dall'antico termine greco usato per indicare una gemma blu può significare giacinto o anche blu scuro dice il proverbio vai al mare se vuoi pescare sono nati oggi nicola pietrangeli brian de palma enzo ginazzi in arte pupo l'11 settembre 1960 si chiudono i giochi della diciassettesima olimpiade gli unici fino ad oggi ospitati dall'italia a roma l'11 settembre 1961 nasce il vvf la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura da subito il logo ufficiale fu il celebre panda gigante bianco e nero infine l'11 settembre 2011 a dieci anni dall'attacco alle torri gemelle viene inaugurato a new york il national september 11 memorial jfk ha detto abbiamo scelto di andare sulla luna e di fare altre cose non perché sono facili ma perché sono difficili arrivederci da barba nera dal 1762 l'almanacco più amato d'italia l'almanacco più amato d'italia